Il settore dei bus turistici preme per la riapertura delle frontiere. Noi a reddito zero dal mese di febbraio, completamente dimenticati dall'esecutivo Conte. Mercoledì 3 giugno scenderanno in piazza con una manifestazione statica in piazza Università Catania e in tante altre piazze italiane per far sentire la loro voce al governo Conte e dire ci siamo anche noi. Sono le imprese di bus, vetture, natanti aderenti al comparto noleggio con conducente. In Sicilia 4.000 aziende e 10.000 occupati tra stagionali e dipendenti. Per il governo nazionale non esistiamo, ribadisce Contrafatto, presidente di Federno Leggio Confesercenti Sicilia. Sono stati stanziati i contributi pubblici per compagnie aeree, per acquistare monopattini e biciclette e per finanziare le linee pubbliche, spiega, ma nessuna misura è stata pensata per noi che lavoriamo quasi esclusivamente con il turismo e che siamo praticamente fermi dal mese di febbraio. Le imprese sono a reddito zero e chiuderanno così il 2020, mentre molti dei nostri dipendenti non hanno ancora visto un euro dalla cassa integrazione. Abbiamo l'assoluta necessità di essere accompagnati in questa fase di stagnazione. La presenza di una decina tra vetture e minivan è circa 200 addetti al comparto. La regione Sicilia è una delle poche amministrazioni ad aver previsto misure di sostegno all'interno della propria legge di stabilità. Una sensibilità, dice Contrafatto, che abbiamo sollecitato e apprezzato. Anche queste misure, però, per essere concretizzate, hanno bisogno dell'ok del governo nazionale per la rimodulazione dei fondi PAC. Noi siamo allo stremo, non sappiamo più come tirare avanti, come fare a pagare tra qualche mese le rate, dei leasing, piuttosto che dei mutui o ancora tasse e contributi. Un tema caldo, questo, che si scontra tra le ragioni della salute e quelle economiche. La ricerca di un compromesso è difficile. La Sicilia vorrebbe tutelarsi attraverso lo strumento di una sorta di patente anticontagio, una patente di non infetto rilasciata attraverso un test rapido all'ingresso in Sicilia oppure attraverso una certificazione di aver eseguito il test prima di partire.